Allora, io ho visto sto io in quattro bottiglie. Adesso vedo dove sono io. Allora, una cazzola e cazzoli. L'altra c'aveva qui il salame che continuava a freddare i frutti. Allora, io ho visto come è caffè. Mi senti un po' i nai, ti acce. C'è una bollettina, una bollettina. Adesso vado a prenderlo, vado a prenderlo. No, la bollettina vado a prenderlo. Poi c'è da, eh, buc'è non piuXec'č. Ok, do da, dai, vai! E' che l'hai da, dai, dai! E' un cazzolo! E' un cazzolo! E' da, beh, vi fokio. E' da, beh, vi pioXec'č. Protiglie ce da... Grazie a tutti.